A Campobasso non si parla d'altro da settimane. La pista ciclabile divide l'opinione pubblica e accende il dibattito politico a pochi mesi dalle elezioni comunali. Abbiamo chiesto un parere ad alcuni cittadini del capoluogo. È una bella cosa, per Campobasso è una bella cosa. Anche perché non tutti la fanno, almeno qua la fanno, è bello. Per me personalmente non serviva proprio questa pista ciclabile perché qua ci sono, anche mio figlio è ciclista, però per Campobasso città non serviva questi soldi di avere spesi diversamente. Ci sono dei posti che non puoi curvarti perché se no dai qualche colpa alla macchina che sta parcheggiando. Hanno sbagliato, per me. La pista ciclabile a Campobasso qual è il suo parere? Secondo me è una buona alternativa per chi va in bicicletta e ama non usare la macchina, chi per come me va a piedi e quindi ha anche un mezzo per potersi spostare nel rispetto del verde. Secondo me è un orrore. Sta fatta male in una zona dove città come Campobasso, dove innanzitutto non ci sono ciclisti. Ma poi è fatta in maniera particolare la nostra città, è tutta salita e discesa per cui i ciclisti non approfittano di questa nuova pista. L'assessore alla mobilità Simone Cretella difende l'opera assicurandone i vantaggi assieme alla maggioranza politica di Palazzo San Giorgio. I dati nazionali da tempo segnalano la nostra città in coda alle classifiche nazionali proprio per mobilità sostenibile. Abbiamo zero piste ciclabili, abbiamo un altissimo tasso di possesso di automobili, abbiamo pochissime persone che utilizzano la bicicletta. Tutti questi indici devono obbligare in qualche modo le amministrazioni a prendere dei provvedimenti. I provvedimenti per stimolare una mobilità alternativa soprattutto sulle due ruote sono proprio quelli della diffusione di itinerari che mettono in sicurezza i ciclisti e anche gli automobilisti perché la tutela della circolazione nasce proprio da questo. E poi vorrei rimarcare che è un'operazione soprattutto di carattere culturale che serve a innestare nella città di Campobas una cultura che fino ad oggi purtroppo non c'era. Sull'altra sponda il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Esposito si dice totalmente contrario alla realizzazione della pista ciclabile. Sì alle piste ciclabili, nelle condizioni in cui vengono rispettate l'ordine delle priorità, basta vedere la nostra città tramanti stradali e marciapiedi che sono disastrosi ed è impossibile praticarli a piedi per gli abili, per i disabili. È veramente un'offesa alla propria dignità trovarsi marciapiedi fatiscenti al fianco di piste ciclabili addirittura a senso unico che io capisco che il codice della strada imponga alcune scelte però è anche ridicolo e ridondante che questo terzo lotto che vede il primo realizzato a Selvapiana sopra i marciapiedi dove sono in continuità sia la pista ciclabile in senso alternato e sia il pedone che ci può transitare in contemporanea ed è stata considerata in questa maniera. Qui nel centro città addirittura i sensi unici per le piste ciclabili, quindi il ciclista va contro il senso di marcia degli automobilisti creando anche del pericolo.